L'incantesimo che ho imparato da sola L'incantesimo che ho imparato è l'Alo Homora Ti permetterà di aprire ogni cosa chiusa magicamente Ma cerca di non cacciarti nei guai Questo è il simbolo dell'incantesimo Halo Homora Quando mi fermo, tieni premuto il pulsante del mouse e segui la stessa sequenza Dopodiché, rilascialo Halo Homora Sei stato grande, Harry Fantastico, Harry Sono sicura che il professor Bizzius assegnerebbe alla tua casa cinque punti per quell'incantesimo Solo con l'esercizio è possibile migliorare Fai un altro tentativo Halo Homora Sei stato grande, Harry Sei stato molto bravo, Harry Il professor Bizzius assegnerebbe alla tua casa almeno dieci punti Solo con l'esercizio è possibile migliorare Fai un altro tentativo Oh, beh, ci sei andato vicino Oh, beh, ci sei andato vicino Ora prova a usare l'Alo Homora Manca ancora qualche minuto prima che inizi la lezione di incantesimi La porta di fronte a te è chiusa magicamente Lancia l'incantesimo Halo Homora per aprirla Ce l'hai fatta Adesso sei in grado di scoprire i due segreti nascosti in questa stanza Prova con la libreria Se hai finito di compiacerti, Harry Dai un'occhiata a quella casta magica Lancia l'incantesimo Halo Homora per aprirla Halo Homora Halo Homora Halo Homora L'Aula di incantesimi si trova oltre questa porta Slipendo 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 Halo Homora Slipendo 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 su intendo su intendo alomor benvenuti giovani maghi io sono il professor vizius oggi vi insegnerò l'incantesimo di levitazione vingardium leviosa osserva bene il simbolo dell'incantesimo vingardium leviosa quando mi fermo tieni premuto il pulsante del mouse e segui il movimento dopodiché rilascialo vingardium leviosa complimenti potter ma sono sicuro che potrai migliorare ancora cinque punti a grifondoro questa volta cerca di essere leggermente più veloce vingardium leviosa davvero strabiliante potter dieci punti a grifondoro questa volta cerca di essere leggermente più veloce devi essere più attento potter non è questo che ti ho insegnato ora puoi accedere alla sfida vingardium leviosa per esercitarti con l'incantesimo seguimi potter lancia l'incantesimo vingardium leviosa su quella statua dopodiché portala sul grosso piatto vingardium leviosa vingardium leviosa bravo adesso vai e raccogli le stelle ci vediamo quando hai finito buona fortuna potter no l'incantesimo vingardium leviosa ho scoperto lo spingi uguale sta il 80% avvengare là guardi tutto si avvengare l'ipendio ci dipendo 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 vingardium leviosa vingardium leviosa vingardium leviosa vingardium leviosa vingardium leviosa ci dipendo ci dipendo ci dipendo ci dipendo ci dipendo vingardium leviosa 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 Alomora 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 Grazie a tutti